Ciao ragazzi, ci sono i bisognosi, ci siamo qui su City Skyline Allora, abbiamo detto che dobbiamo portare il treno Quindi prendiamo il treno, l'abbiamo proprio comprato apposta Allora, i treni sono qui, però non mi permette Cioè, questo sono i... sì, quindi devo prima piazzare questo da qualche parte E poi... Placid Roadside, quindi devo piazzarlo da qualche parte, su una strada E io direi di fare, visto che questo qui è tutto il distretto petrolio Di fare come? Di fare un... Un'Higway Quindi di fare qui un'uscita Io farei anche l'uscitina Cioè, faccio questa No, però sapete cosa? Mi conviene fare una strada così A sei corsie normali Queste cose, sei corsie con la linea per le biciclette Magari poi le faremo Però ci conviene fare una cosa del genere Però mi conviene anche... no, così Dritta, questa la voglio fare... No, non la voglio fare dritta Non è vero La faccio così, la faccio, ok? E qua ci metto... ci metto le due uscite autostradali Anche se sono abbastanza lunghe, le ho fatte, no? Al contrario Quindi, le due uscite autostradali le devo fare una qui Fammi le dritte, queste qua se non le mettete dritte fa sempre casino E poi una la fai da qui A qui Così, non facciamole troppo... troppo grandi Sono due entrate e uscite autostradali Infatti è sbagliato No, è giusto, è giusto Fammi vedere come sono le frecce Le frecce... devo prendere quella mod? Dico sempre che la devo prendere e poi non la prendo mai Ok, perfetto No, questa freccia qui è sbagliata Ah, perché ce l'ho disattivata quella che mi fa cambiare le frecce Non fa niente Allora, io direi di mettere la stazione dei treni La mettiamo qui Perché qui? Perché qui così... Da questa parte loro arrivano direttamente qua Qui si crea... la metto in quest'angolino qui Ok Poi con questa qui la devo connettere come? Fammi vedere, non si vede niente Non si vede, peraltro La connetto da questa parte Fammi fare strade libere, gentilmente Ok, così Che non dia molto fastidio Qui ovviamente devo riarrivare fin qua Devo arrivare fin qua, eh Poi alzo, perché sennò si incasina il mondo Fammi vedere, la devo alzare fin qua Altezza 24 metri Dimmi che riesci a portarmela dall'altra parte in qualche modo Ti prego Oh, c'è arrivato, ce l'avevo fatta L'avevo trovata in una posizione Guarda, c'è una posizione dove metterla Devo fare un movimento minuscolo, devo fare proprio Eh, ma è proprio piccolissimo il movimento che devo fare, eh Poi, curviamo e scendiamo di uno Curviamo, scendiamo di uno Scendiamo tutto a terra Dobbiamo arrivare fino a lì Ok, e poi mi basta collegarmi qua La collego come? La collegherei anche Se si decidesse a stare fermo un attimo Così Guarda che bella Qui possono arrivare Faccio anche quell'altro pezzettino Faccio, volendo Potrei fare questo Potrei fare Ehm, fa la curva, va Vabbè, fa la così Falla come cazzo ti pare Maschè la fai Così Metti che vogliono andare da quella parte Oppure da questa parte C'è un incrocio ferroviario Quindi abbiamo fatto, guarda qui Un'opera immensa, direi Che mi richiede acqua Ovviamente mi richiede sempre l'acqua C'è sempre bisogno di acqua in questa città Quindi l'acqua la portiamo fin qua Ok E mi richiede l'elettricità Ovviamente mi richiede l'elettricità L'elettricità sono un po' preoccupato Ve lo dico, ve lo dico Che sono un po' preoccupato Perché Ok, mettiamola fin qua Dovrebbe arrivare Quindi adesso loro Faranno dei treni Ehm, sì Ragio Radius 62 Sapete che non so cos'è questo radius 62 Non ne ho la più pallida idea Cioè loro arrivano qua Girano Vanno ai treni Secondo me può funzionare Ehm Peraltro io direi di mettere anche delle altre industrie qua Visto che abbiamo fatto questa zona Poi dobbiamo vedere un po' come funziona Se funziona qualcosa non lo so Dobbiamo guardarci poi Quindi mettiamo qua queste Queste industriettine Vediamo se si attiva questa zona Qua l'elettricità Sì, la potrebbero prendere da lì Se partono da qui è un casino Ma se partono da lì ce la fanno Ok C'è un po' di industriale Non so perché non funziona Il distretto dove finisce? Finisce là il distretto Va bene Finisce là Io ce l'ho messo quindi l'industriale Sì però non vengono Eppure c'è richiesta di industriale Non arrivano Però stanno arrivando E piano piano arrivano Vedete là che c'è un Adesso un via vai Che è una cosa incredibile Vedete là Tutti Questi cose Tutti i camion Che vanno da quella parte Quindi un po' di zone qua Si dovrebbero dirigere da quella parte Vedete qua Che casino che hanno fatto Radius 62 Sapete che Radius 62 Non so cosa significa Non ne ho la più pallida idea Questa è la trail line Ma non ci serve Però questo funziona Questo funziona Perché vedo che vanno Però non capisco perché Non vanno a prendersi quella cosa Qua arrivano E qua tornano Non so perché non vanno qui A prendersi l'industriale Eppure io l'ho messo Mettiamo degli uffici qua Magari Mettiamo degli uffici qua Ok così Per favore Fammi mettere gli uffici per venino Che casino Ok Vediamo un po' quello che succede In questo modo Non so se si vanno a formare Delle industrie Forse non gli piace quella zona Però è una bella zona A meno che non vogliono Lavorare qui dentro Io qui dentro quasi quasi La metterei un altro po' No qua c'è C'è la richiesta di industriale Ma non vanno Eppure sono collegati all'autostrada Sono collegati Non è che sono collegati Cioè l'autostrada è qui E loro possono arrivare Questa è tutta autostrada Perché comunque è tutta autostrada Perché non posso costruire niente Qui sopra Ve ne rendete subito conto Qua cosa ho combinato Ho fatto sta cosa qui Che non ho capito che serve Allora sapete Questi qua li collego Fammi collegare come Con quella lì La stradina che arriva Dentro l'autostrada Così Ok perché collegato Sono scontenti Ma scontenti cosa L'industria dell'autostrada È fantastica Quelli che vogliono uscire Senza che fanno tutto sto giro Per arrivare lì Passano direttamente di là Ci sta Ci sta Quindi qua non ho capito Perché non si attiva No si è attivata Si è attivata la zona Perfetto Perché questo qui ci dà Un sacco di boost Sulla industria Quindi le industrie ci sono Guardate lì Quanti soldi abbiamo Questo l'abbiamo fatto Io voglio solo arrivare A 26.000 E ci arriveremo Ci arriveremo Abbastanza presto Perché 26.000 Mi dà il cargo ship Il cargo ship Lo facciamo subito Mi dà l'arbor E il cargo harbor Che sono le due Posso fare belle cose Sapete cosa Non ho ancora fatto qui Gli edifici unici La frozen fountain Allora la frozen La potrei mettere Qui al centro Fammi trovare un posto Per sta frozen Ah no ma questa Fa rumore fa Eh questa fa nice Fa il disturbo Oh ma chi se me frega La metto qui sopra Allora Se trovo un posto La metto qui sopra Guarda che non posso Metterla da nessuna parte Spazio già occupato Peraltro mi costa 120.000 Mica mi costa poco La metto qui La metto Tac Così qua mi va a aiutare Tutta sta zona Questo cos'è Eh questo Questo qui lo zoo E lo zoo ce lo voglio avere Ma lo zoo fa un sacco di rumore Allora lo metto qui Lo metto E lo zoo Io ce l'ho E lo zoo Ok sono diventato frozen Non vi preoccupate Però Questo qui Ricerca di lavoratori Qua non ci sono mai i lavoratori Dovrei fare Una linea degli autobus Che mi prende Le persone di qua E me le porta in giro Vediamo se mi riesce Ci provo Ci provo Quindi ne metto una qui Poi ne metto Un'altra fermata qui Arriva anche fin qua Torna indietro Ok così abbiamo collegato Il tutto abbiamo collegato Arriva fin qua Poi vai fin qui su Qui su E poi ti vai a collegare Così qua Scendono dalla 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 metro E possono prendere l'autobus È giusto che i lavoratori Abbino l'autobus Anzi Dirò di più In questo costo del petrolio Io gli do Sì Posso farlo Posso permettermelo Posso anche permettermelo Potrei fargli Il free public transport Voglio che gli operai Utilizzano Cioè mi fa piacere a me Perché già lì C'è una grande concentrazione Di camion Guardate qui che casino Che c'è camion Che entro e esco Da sto coso Quindi a me va più che bene Fare Fare un coso del genere Quindi qui dentro Nella zona del petrolio Non pagate Cioè i lavoratori Non pagano gli autobus Mi sembra giusto Mi sembra Poi qua è tutto Guarda che casino Guarda qui che casino Che si è creato Perché prendono questa strada Non prendono l'autostrada Dovrei scollegarle No però l'ho fatto apposta L'ho fatto Perché scollego Sono stupido se li scollego Qua si è creato casino Vedi qua Non ci doveva essere Sto casino Non è stata progettata Così la strada È stata progettata In un modo diverso L'hanno loro Incasinata tutto A meno che io Non crollego qui Così magari Chi deve andare qui Non fa tutto il giro Perché alcuni Vedo che tornano indietro E quindi Eccolo Vedi qua come Guardando le cose Come puoi notare Queste Se io di qua Faccio una cosa del genere Vedi qua Un po' Andranno a questa parte Perché è questa zona industriale Che si va a incasinare Quindi ci può stare Allora Il petrolio funziona Qua gli uffici funzionano Ci vogliono ancora Venire a lavorare Questo cosa Che problema c'ha Too few service Pochi servizi Come pochi servizi Cioè Ti ho messo Che cazzo vuoi Ti ho messo tutto Ti ho messo Vediamo se c'è un edificio unico Che posso montare qui Questo cos'è La statua Della salute Statua dello shopping Questa cos'è la metterei Stato della salute Metterei qua Ma perché qui la zona è proprio bruttissima Mettiamo qualche parchetto Qua c'è qualcosa che posso piazzare Riding Fishing piper No mettiamo qualche parchetto Magari per Farla diventare più bella La zona Ice sculpture park Mettiamo questo qui Così sono tutti un po' più contenti Qua c'è una grande richiesta adesso Di giallo Guardate quanto giallo c'è Tutti vogliono lavorare Finalmente Finalmente abbiamo attivato Questa zona Ok io qua Direi di completare Questa cosa così E completiamo questa Poi vediamo se gli manca l'acqua Sì qua manca l'acqua Quindi la portiamo subito Lì invece sono a posto Non vorrei Volessero anche Degli Come si chiama Degli uffici Noi potremmo qua Creare un'altra linea E dividere No però adesso Non c'è richiesta di niente Non riesco a capire Perché non riesco a arrivare A 26.000 Crossroad and traffic Quella zona lì è un po' incasinata E lo so che è un po' incasinata Non me lo devi dire tu Se io collegassi Perché questa è una bella strada Questa con questa Lo potrei fare Lo potrei fare con una strada media Una strada media Con magari Gli alberi Faccio sta cosa così Faccio Facciamola Non proprio direttissima Ok La faccio così Toh Guarda che ho collegato sta stradina Magari qualcuno ci arriva qua Ok Quindi c'ho richiesta Un altro pochino di persone Non possono arrivare qua Fammi vedere se c'è L'elettricità Eh l'elettricità ci manca Fermi tutti quanti Perché abbiamo un problema Con l'elettricità Questo quanto mi produce Mi produce 120 Oh io ci provo a fare questo Eh ma che ci provo a fare Tanto qui mi Mi incasino e basta Lo so già eh To sleep 32 64 Eh mi servirebbe tipo Un'altra zona Questa zona qui Non c'è Una gran velocità Dell'acqua E quindi è quella Che non mi dà La possibilità Di fare niente Proviamo a mettere Questa qui allora Questa qui la piazzerei Anche dove La piazzerei anche qui Dove c'è il Qui Riesci a mettere Da qualche parte Qui Così Piazziamola qui va Che mi fa 160 kilowatt di giorno Di notte non fa niente Non funziona di notte Ovviamente Eh la notte è un po' Un problema Perché dobbiamo trovare Un sistema per la notte Eh quella è tutta una questione Questo che cazzo c'ha di lamentarsi Troppi pochi servizi Questo non riesco a capirlo Cosa vuole Popolazione 26.000 Grandissimi Ce l'abbiamo fatta 26.000 sono tanti Harbor Harbor e cargo harbor Ok In modo che dico subito io Quello che facciamo Ah questi due li devo fare subito Devo fare Il cargo harbor Lo posso fare qui Qui il spazio è già occupato Lo potrei fare da queste parti Fammi vedere Perché comunque ci arriva Questo è cargo Se io metto il cargo qui Dovrei aprirmi al mondo Dovrei aprirmi al mondo Quindi prendiamo la strada Questa buona Eh questa qui Non mi serve In quel modo Colleghiamola Qui devo utilizzare Per forza questo Qua posso migliorare questa strada Non la posso migliorare Ok Qua manca l'acqua Secondo me questo ci può essere Veramente utile Ci può aiutare L'acqua te l'ho portata Oh scusa L'acqua ce l'abbiamo Sì l'acqua ce l'abbiamo Però io ne metterei Un altro per il trattamento idrico E lo piazzerei anche Qui sotto Sì perché tanto l'acqua va da quella parte Quindi piazzerei questo qui E lo collego subito Un altro di questo va bene Poi ne devo piazzare un altro Per prendere acqua E io lo piazzerei Su questa strada Quindi acqua Prendiamo questo che succhia l'acqua Lo portiamo dove Perché qui c'è già No qui non lo posso piazzare Lo posso piazzare qui sopra Qui non è inquinato Vero No non è inquinato Non si vedrebbe se fosse inquinato Però lo piazzo qui sopra Che è meglio va Quindi colleghiamo anche questo Uno e uno due Perfetto Quindi l'acqua ci dovrebbe essere Sì dovrebbe esserci Ma non ho capito Perché non funziona Ok è partita adesso È partita con un attimo di ritardo Lì ci ho messo il cargo bay Vai veloce Funziona questo coso? Cargo transport Non vedo grande persone Che vanno lì Quindi non so se è normale Sta cosa Non vedo Un'attività Non vedo nessuna attività Devo essere onesto Devo fare qualcos'altro Devo fare Devo aspettare che arrivi la nave Forse Perché comunque È collegato Sì Ah no è arrivata la nave Vedi? Ah vedi la navicella Carico 24% Ok al momento Non è carichissima Però si caricherà Qui c'è una bella zona petrolifera Che richiede lavoratori E infatti guardate qui Subito mi si è migliorata La La zona La richiesta di questa zona Guardate qui Subito stanno Stanno arrivando le persone Qua quando gli industriali Vedono Vedono i soldi Ci mettono un attimo Ci mettono ad arrivare Ok io la tirerei anche fin qua Farei tutto questo Farei Ok qua fa tutta zona commerciale Tutta zona Petrolio Quindi tiriamo questo coso qui Tutto industriale Petrolio Petrolio L'industria è anche di là No qua può andare bene Secondo me Qua può andare veramente bene Questa zona Un po' di industriale Qua Tac Da quella parte magari faccio Dovrei fare un po' di petrolio Un po' di uffici Dovrei fare Guardate come stanno arrivando Qua quando vedono i soldi Subito arrivano questi bastardi Quindi questo qua Mi prende tutto il petrolio Me lo porta via E non è male Non è male Ve lo dico io che non è male Qua come si è messi di notte Con la corrente Qua 372 Dobbiamo piazzare Per forza una di queste Non so veramente dove piazzarla O compriamo Questa zona qui E andiamo ad affogarli Allora vediamo qua Io se lo facessi qua Quanto mi viene Qua mi viene 112 Lo proviamo a fare qua Però mi annega Tutte le zone qua No qui c'ho l'acqua Devo farlo per forza Da questa parte Compriamo quella zona Così poi Compriamo questa Compra compra Compriamo tutto Abbiamo comprato Tanto ho messo la mod Che mi permette di Comprare tutte le 25 Le 25 zone Elettricità Facciamo 5 Questa la faccio qui Questa 128 Quindi deve essere Una piccola apertura Forse per quello Non funzionava Fammi vedere Se la piazzo da qui A qui 128 Piazza Voglio vedere Quello che fa Allora qui dobbiamo Stare attenti Perché adesso Sarà un po' un casino Quindi questo qui Lo dobbiamo prendere Di qua No aspetta Che caso ho preso Dobbiamo prendere Questo qui Da qui Lo dobbiamo portare Dalle parti Dobbiamo collegarlo Da qualche parte Allora fammelo Passare di qua Ok colleghiamolo Così per il momento Non ci preoccupiamo Questo qui Dovrebbe darmi Non funziona Non funziona Perché non funziona Forse devo collegarlo Con la strada Ma non lo so Non lo so proprio Non lo so Fammi vedere Devo collegarlo Con la strada Sto coso Ah si Devo collegarlo Con la strada Peraltro devo fare Una strada più lunga Devo Quindi devo farla La fai di qua E la sollevi Cos'è che ti ha fastidio Ti ha fastidio Tutto ti ha fastidio Quindi di qua Devo trovare Un modo per passare Adesso Eh Mo' il modo per passare Sarà difficile trovarlo Perché qui È molto vicino A meno che Non faccio più basso Quanto l'ho fatta alta Sta cazzo Ok guarda che c'è C'è una posizione dove Eccolo qui No no L'avevo trovata Qua posizione Andava benissimo Qui Poi la faccio passare Da questa parte La collego lì Però abbassandola Ovviamente Olè Vedi qua Vedi che Mo' forse Dovebbe funzionare No non funziona Questo è un problema Perché non funziona Non c'è il flusso C'era il flusso Però Metto che produceva Non flusseggia Questo coso Non flusseggia Non so perché Non flusseggia Adesso Dovrebbe produrre qualcosa Ma non produce Forse sta aspettando Che si riempia L'acqua Non è la più valida idea Questo coso qui Ci ha sempre stati Dati problemi Qua le acque Si sono un po' prosciugate Non dico mica di no Qua la nave è carica No non è carichissima Però funziona E allora questo qui Qual è il problema Perché questo non va Cioè pure dovrebbe funzionare Non mi dice Non mi dice perché non funziona Perché non me lo fai funzionare Che era tanto bellino Budget Non mi interessa Loans Non mi interessa Questo non mi interessa Nemmeno Boh Non so Non so perché non funziona Ho sempre avuto problemi Io con questa cosa Eppure Guarda Questa cosa qui Dovebbe funzionare Perché questa cosa Non funziona Perché non lo fa funzionare Non è la più palida idea Non ne ho la più palida idea Forse ci vuole della corrente Ma se no me lo faccia vedere Se mi serviva della corrente No la corrente arriva Vuole dell'acqua Cioè acqua ne ha quanto ne vuole Non funziona Va bene Noi ci vediamo Nella prossima puntata Vado a cercare Che cazzo è Perché non funziona La città sta succedendo Molto bella secondo me Molto inquinata Qui va bene Ma molto bella Mi piace tantissimo Questa città E noi ci vediamo Nel prossimo video Sempre qui su City Skyline Ciao